ci troviamo a potenza questa è la palestra caizzo questa invece è la palestra l'epore si può ben notare come ci siano situazioni critiche in questi impianti sportivi del capoluogo di regione che almeno sulla carta si presenta come città europea dello sport 2021 ma per capire meglio di cosa parliamo facciamo un passo indietro come si evince anche dall'interrogazione in data settembre 2019 dell'ex assessore allo sport e attuale consigliere comunale giovanni salvia devo notare che non c'era una situazione tragico comica ovviamente non riguarda questa amministrazione ma evidentemente la precedente fra il 2014 e il 2015 sono state fatte gare d'appalto per i lavori relativi alle strutture sportive comunali parliamo infatti delle palestre caizzo mazzola e l'epore e della piscina comunale di monte reale gli stessi lavori sono stati consegnati al comune nel 2016 parliamo di lavori che riguardano quindi i fondi rinnovabili con il divizio del solare termico e del solare fotovoltaico tuttavia come ci risulta per ben due anni fino al 2018 in nessuna delle strutture prima citate gli aggiornamenti installati sono entrati in funzione nello specifico parliamo di contatori per il risparmio di corrente elettrica dal 2018 sembra che tali contatori siano stati messi in funzione solo nelle palestre caizzo e mazzola attualmente ad esempio nella palestra l'epore l'impianto non è operativo in quanto non collegato non vi è mai stata contezza non sono mai stati presi dati riguardanti i consumi non è mai stata realizzata alcuna manutenzione e di conseguenza non è mai stato noto il reale risparmio e la funzionalità degli stessi contatori installati un vero problema per il comune e per le sue tasche a questo si aggiungono alcune difficoltà tecniche questi contatori infatti spesso si spengono da soli ad esempio è sufficiente del maltempo per mandarli in down ma non è però possibile riattivarli con semplicità e senza conoscenze sull'utilizzo per dirlo con parole semplici non è un'azione che può fare chiunque in questo modo i contatori restano fermi per parecchio tempo ne abbiamo parlato con il vice sindaco antonio vigilante allora in linea di massima gli interventi che sono stati fatti negli anni addietro sulle strutture sportive riguardano il tema più generale che è quello dell'efficientamento energetico l'intervento diciamo primario è quello di dotare le coperture di impianti fotovoltaici che quindi consentano interventi che vadano a mitigare la il consumo e quindi i costi di energia producendone attraverso appunto le celle fotovoltaiche nel 2019 quando ci insediavamo addirittura questi impianti erano installati ma non messi in esercizio l'amministrazione si è adoperata per cercare di mettere in esercizio innanzitutto questi impianti e quindi poter iniziare a effettuare quello che si chiama in gergo tecnico lo scambio sul posto ovvero la produzione di energia elettrica che va poi a diciamo entrare in cifra positiva come risparmio energetico perché materialmente insomma si va a produrre energia quindi quell'energia che si produce la si riesce a riutilizzare per l'esercizio europeo dell'impianto. Tutto ciò ci potrebbe permettere perfino di raddoppiare questo risparmio energetico? Questo aumento della complessità c'è la necessità di potersi affidare a quello che è la figura che viene poi istituita anche per norma cioè quella dell'energy manager, una figura che sia in grado di poter gestire la complessità di questi impianti e poterti dare anche un resoconto di dettaglio ma soprattutto tecnico del reale efficientamento energetico delle diverse strutture. C'è la necessità di trovare e rintracciare le risorse in bilancio per poter ovviamente pagare delle professionalità che come dicevo devono gestire anche impianti di una certa complessità quindi determinati requisiti non sono reperibili all'interno dell'ente anche perché si tratta di attività che richiedono comunque un costante aggiornamento un costante aggiornamento che è più proprio del consulente esterno che del dipendente fisso che di sua sponte non è portato a seguire gli aggiornamenti e avere anche tutti i requisiti perché si parla anche di patentini di abilitazione per lo svolgimento di queste attività. Quindi ci siamo chiesti perché non c'è controllo e manutenzione? Perché non vengono fatti i calcoli dei consumi? Quindi il comune sa quanto realmente spende e quanto sta perdendo con i contatori spendi? Abbiamo il dato ovviamente delle bollette quindi dei costi energetici è agevolmente rintracciabile che è in materia poi di gestione del provveditorato perché un ente ha come se giustamente ha un'organizzazione che prevede la specializzazione sui diversi interventi. Contrariamente a quanto si potrà immaginare chi gestisce materialmente poi l'impiantistica non è lo stesso che poi ha la gestione dei costi. Nella palestra Vito Lepore e nella piscina di Monte Reale però il contatore non è mai stato collegato e mai messo in funzione. Sono tre anni che l'impianto pur essendo completato non è funzionante. Sempre alla palestra Lepore nei lavori per l'installazione dei pannelli fotovoltaici sono stati provocati dei danni come ad esempio dei buchi dai quali fuoriesce l'acqua quando piove. E proprio il comune recentemente ha dovuto fare anche degli interventi extra per risolvere tali errori. Se banalmente immaginiamo applicare un pannello dobbiamo tener conto su quale superficie lo andiamo ad applicare. Se abbiamo una copertura che ha determinate caratteristiche poi bisogna fare i conti che queste coperture devono contemplare una serie di accortezze per evitare appunto degli spiacevoli inconvenienti. È stato il caso della palestra Caizzo. Con la necessità di dover intervenire successivamente. Quindi come hai detto bene tu con un ulteriore aggravio di costi da parte dell'ente per poter riparare l'intervento. In questo cerchiamo di dare il massimo del nostro contributo anche in forza della nostra professionalità per cercare di mitigare e di minimizzare questi errori o meglio queste distrazioni, queste leggerezze. Sulla piscina sicuramente è stato fatto un grande lavoro di efficientamento energetico. Poi come dicevo c'è da mettere a punto la questione della gestione di un efficientamento energetico e la gestione dell'efficienza energetica di un impianto. Per quanto riguarda la piscina ovviamente era un tema che si è sempre rincorso nelle diverse stagioni politiche ovvero quello di poter garantire alla città di potenza un impianto che potesse avere un potenziale maggiore proprio dal punto di vista delle dimensioni. A questo punto ci chiediamo quando possiamo rivederci per verificare che vengano fatti tutti questi aggiornamenti. Sì per quanto riguarda questo percorso il mio auspicio è che riusciamo a superare innanzitutto un grande ostacolo per la città di potenza che è purtroppo questa massa debitoria che grava sul bilancio comunale e che ci deve mettere in condizione di poter portare a termine un percorso che è una quadratura del piano di riequilibrio perché da quello scaturisce la nostra capacità di spesa e per dire l'opportunità di poter inquadrare nel nostro bilancio l'assunzione quindi l'individuazione o eventualmente anche le somme a disposizione per ingaggiare delle professionalità che possano portarci questa ricognizione. Nel mentre noi stiamo cercando anche con le risorse di cui disponiamo in termini umani di portare a efficienza gli impianti. Un esempio su tutti secondo me è il campo scuola che esisteva da anni e un piccolo intervento quale l'installazione degli impianti di illuminazione ha consentito un riuso felicissimo di questo impianto anche nelle ore notturne cose che non si immaginava prima perché materialmente chi si occupa di manutenzione le ritiene magari un di più inutile anzi dei punti di luce in più sono una spesa in più. Invece abbiamo allungato di gran lunga la fruizione di questo impianto che è diventato molto più utilizzato rispetto al passato quindi facendo un bilancio probabilmente diciamo siamo andati anche a migliorare dal punto di vista degli introiti per la gestione di questo impianto. Nel frattempo insomma gli ingegneri della manutenzione sono già all'opera per poter cercare di mettere in efficienza qualora questi interventi richiedano diciamo dei semplici reset adesso ci vuole oppure una semplice magari accortezza o magari chiamare il numero verde come spesso accade per poter risolvere il problema perché magari anche in una notte magari di maltempo può esserci stata qualche disfunzione dettata a qualche sbalzo di tensione e quindi in questo diciamo sui piccoli interventi diciamo che riusciamo a intervenire qualora questi dovrebbero dovessero essere degli interventi un po' più articolati non avremo la necessità del tempo diciamo per quest'estate di poter mettere in funzione il tutto ovviamente capendo qual è il problema capendo se c'è l'eventuale l'eventuale danno prevedendo le necessarie somme per intervenire quindi poi attuando il tutto